Mannaggia la miseria guarda ma io ti pare che ti venga a iniziare a fagliare a 70 anni ma non era meglio che a me morevo io invece che madre ma no ma dopo come cavolo lavoravo quando gli scivogli e così crusci non ce la faccio manca a fermarli con questa scrivania e così zega no ma lavori in vita di roba ma guarda qua qua in centro in centro in centro io non lo so che mi venga a fare vai fammi no 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 mamma mia guarda ma io mi amore bello davis ma a fagliare a 70 anni ma le 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 fammi riuscidando no dicane a perdere a te dino talk talk